Lasciatevi ritrovolgere da questo mondo colorato, da questo circo di risate, le cirque d'Ushatush! Una grande festa quella di stasera all'auditorium Sant'Alfonso di Pagani con lo spettacolo Cirque d'Ushatush di Airone Comunicazione che vedrà protagonista il celebre duo di Made in Sud, degli Arteteca, accompagnati da un gruppo di artisti circensi che accoglieranno gli spettacoli già nel foyer. Una serata che ha registrato il tutto esaurito e non mancheranno momenti di solidarietà grazie alla collaborazione con associazioni locali in particolare quell'autismo fuori dal silenzio ed insieme per rinascere. Lo spettacolo, scritto a quattro mani dagli stessi Arteteca con Nando Mormone e Ciro Ceruti, che ne cura anche la regia raccorda attraverso le musiche inedite di Franca Carpetieri e i numeri di un gruppo di otto circensi ed agropodi sketch che hanno come protagonisti i più amati personaggi ai quali il duo comico ha dato vita negli anni. Un continuum che trascenerà gli spettatori a 360 gradi in un mondo fantastico. Il pubblico avrà infatti la sensazione di entrare in un vero e proprio circo grazie all'allestimento che caratterizzerà tutti gli spazi d'accesso oltre alla sala stessa con artisti circensi che accoglieranno gli spettatori in sala ancora prima che lo spettacolo vero e proprio abbia inizio. Uno spettacolo dunque per tutta la famiglia, fatto di immagini, musica, circo e soprattutto tante risate. E' un po' una carrellata di tutti i nostri personaggi fatti negli anni però con un allestimento circense. Una cornice particolare. Anche dei momenti voglio dire dove veramente mi hanno impressionato, mi spettavo a loro, sono dei squalli di cabaretisti. Quinti, quinti, quinti di quattro centri. Invece qui hanno dato atto, hanno dato la prova che sono dei magnifici attori perché ci sono dei momenti romantici. Ciro non dire bugie perché non ti pago. Lasciatevi rivolgere da questo mondo colorato, da questo circo di risate. Le circo, duscia duscia!